Nella sfida vinta dal Barcellona per due contro il Malaga, ha fatto molto discutere il primo gol Blaugrana segnato da Deulofeu dopo la palla era uscito. Il difensore del Malaga, Luis Hernandez dopo la gara si è lamentato moltissimo dell'arbitraggio. Capisco che dicono di non aver visto, ma è grottesco, la palla è uscita di quasi mezzo metro. Ancora una volta è stata presa una decisione che ci danneggia. Siamo ultimi in classifica, stiamo facendo tanti errori ma decisioni come questa ci penalizzano.